Consueto appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. Andiamo ad aprire subito il nostro notiziario con le notizie di cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 27enne del posto gravemente indiziato di furto aggravato. A seguito della segnalazione telefonica di un passante pervenuta sul 112, i militari sono intervenuti in un cantiere edile nel cuore del quartiere Picanello, dove l'anonimo interlocutore segnalava un furto ancora in atto. I carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto, seguiti dal responsabile del cantiere, anche egli telefonicamente avvisato, facendo quindi convergere un altro equipaggio in ausilio, seguendo già le indicazioni fornite dal 112, stante le quali l'autore del furto sarebbe stato un giovane a bordo di una lancia Y, descrivendone inoltre fattezze ed abbigliamento, che si era impadronito delle componenti di un ponteggio edile. Poco dopo, proprio nelle vicinanze e precisamente in via Lovecchio, l'equipaggio della gazzella giunta in ausilio ha scorto giungere in senso vietato l'autovettura segnalata, il cui conducente, corrispondente alla descrizione in loro possesso, ha accostato il veicolo a margine della strada, precipitandosi di corsa all'interno di un appartamento. Il giovane immediatamente inseguito e bloccato non avrebbe saputo ovviamente fornire alcuna spiegazione sulla presenza di quel materiale all'interno dell'autovettura né sulla sua provenienza. Dunque è stato arrestato. Passiamo ad un'altra notizia di cronaca. I carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato un ventunenne del posto per i reati di porto abusivo e detenzioni di armi clandestine, nonché per resistenza a pubblico ufficiale. Nello scorso pomeriggio le pattuglie della stazione stava per accingersi ad attivare un posto di controllo in via Galileo Galilei, proprio all'uscita a Paesi Etnei dell'autostrada 18, quando ha notato transitare una Fiat Punto in direzione verso San Giovanni La Punta, condotta dal ventunenne già noto per pregresse vicende giudiziarie. Pertanto è stato intimato l'alt al conducente, il quale dapprima ha ottemperato all'ordine, salvo poi innestare la marcia indietro, ripartendo a tutta velocità mentre il capo pattuglia gli si era avvicinato a piedi per procedere al controllo. Dopo un coincitato inseguimento, il fuggitivo ha tentato di distanziare i militari i quali comunque hanno scorto un oggetto lanciato fuori dal finestrino dell'autovettura. Per evitare di creare pericolo alla circolazione veicolare dai pedoni, i militari hanno richiesto il supporto dei colleghi che finalmente sono riusciti a bloccare il fuggitivo in via Catania. Il giovane ha asserito di essere fuggito perché senza la copertura assicurativa, che in realtà risulta essere presente, ma i successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l'oggetto lanciato dal finestrino era altresì una pistola semi-automatica calibro 9 a salve, ma modificata in un'arma da fuoco funzionante con tre cartucce nel serbatoio. Immediata la perquisizione presso il domicilio del giovane, dove ancora custodita nel proprio astuccio, i militari hanno anche rinvenuto una seconda pistola calibro 9, anch'essa hanno l'augamente modificata con sei cartucce nel serbatoio. L'uomo è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza. Ed ancora cronaca, nei giorni scorsi, il personale dipendente del commissariato di Polizia di Stato del sezionale Borgo Ognina, nel corso di un controllo amministrativo, ha sanzionato e posto sotto sequestro uno dei più noti e frequentati centri sportivi di padel della Sicilia orientale. Dagli accertamenti esperiti durante l'attività di Polizia è infatti emerso che il circolo era privo delle prescritte autorizzazioni amministrative per il legittimo esercizio dell'attività, risultando pertanto totalmente abusivo sin dal 2017, anno della sua Costituzione. I sigilli sono stati apposti anche ad un'area adiacente ai campi di gioco, adibita a parcheggio per i giocatori. Inoltre due dipendenti addette alla reception, la cui posizione lavorativa è al vaglio dell'ispettorato del lavoro, venivano sorprese dai poliziotti senza le prescritte mascherine di protezione, venendo così sanzionate per la violazione della normativa volta al contenimento della pandemia da Covid-19. Per tutte le violazioni riscontrate venivano erogate sanzioni pecuniarie per una cifra vicina ai 9.000 euro. E adesso cambiamo argomento, passiamo a Sigonella dove il governatore siciliano Nello Musumeci ha ricevuto il comandante del 41esimo stormo, Antinsom, dell'aeroporto di Sigonella, colonnello Howard Lee Rivera. Nel corso dell'incontro si è posto l'accento sul ruolo strategico che in modo particolare in questo periodo storico ricopre la base di Sigonella nel contesto geopolitico del Mediterraneo. Il comandante Rivera ha evidenziato il piano di potenziamento e di riqualificazione della base aerea che vede cantieri aperti per un impegno finanziario di circa 150 milioni di euro, con una positiva senza dubbio ricaduta sull'economia del territorio e sull'occupazione delle maestranze locali. Adesso passiamo ad un'opportunità per le campagne siciliane. L'assessorato ai beni culturali ha pubblicato un avviso per interventi di restauro e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. In totale ci sono 76 milioni di euro di fondi del PNRR destinati a recuperare la bellezza di centinaia di edifici storici e rilanciare economicamente i nostri territori. Parola del governatore Musumeci, per ogni intervento è previsto un tetto massimo di 150 mila euro. L'obiettivo è finanziare almeno 511 progetti. Le domande verranno presentate dal 20 aprile al 20 maggio. E cambiamo argomento per i siciliani che vogliono bonificare dall'amianto le proprie abitazioni. Adesso c'è una possibilità in più. Il governo regionale infatti ha definito l'impiego di 10 milioni di euro per erogare contributi a fondo perduto ai privati. L'assessorato all'energia tramite il Dipartimento Acqua e Rifiuti sta predisponendo un avviso che specifici criteri e beneficiari. Diamo finalmente attuazione ad una legge regionale mai applicata, spiega il Presidente della Regione nell'Omusumeci. Forniamo un aiuto concreto a sostenere costi significativi e garantiamo uno smaltimento in linea con le normative e nel rispetto totale dell'ambiente. E adesso Enrico Ruggeri a Tutto Rock. Sottotitura 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 Chi sei? E' contessa, tu non sei più la stessa E vuoi che io rimanga nel tuo letto per quei smattriti sui cittadini Applauditissimo il concerto del cantante e chitarrista milanese al Teatro Ambasciatori di Catania Per Enrico Ruggeri la Rivoluzione Tour 2022 Ritorna in rock a Catania ed è proprio quello di Ruggeri a riempire la platea per un pubblico competente E che finalmente ha potuto riassaporare l'inconfondibile timbro vocale di Enrico A Catania ha presentato dopo tre anni di pausa obbligata E per l'organizzazione di prima musica di Giovanni Di Prima Alcuni brani tratti dall'ultimo album La Rivoluzione Dove si intrecciano rapporti umani con i sogni di una generazione Che si è messa in gioco con le attualità della vita Sul palco una band di assoluto valore musicale Hanno suonato con Ruggeri, Paolo Zanetti, Francesco Luppi, Alex Polifrone, Fortu Sacà, Silvio Capeccia Alle tastiere insieme al quale 50 anni fa nel 1972 Proprio Enrico Ruggeri aveva fondato gli Champagne Molotov prima dei Decibel E poi infine Massimo Biggi alla chitarra Che ha collaborato in quattro brani del disco Con questo era tutto per il notiziario odierno Vi ricordo che ci potete trovare anche nella piattaforma nazionale di BluTV Nei canali 839 del Bucchè di Sky 1086 di TVSAT E 123 HBB TV Sempre nel canale nazionale BluTV Nelle nostre dirette durante la fascia oraria 18.30.20 Ininterrottamente ci potete seguire inoltre nei canali Twitch TV Dream E sul nostro sito www.globusmagazine.it E sul canale 17 HBB TV del Digi Latale Terrestre Era tutto per l'informazione odierna Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon proseguimento Grazie a tutti